Hanno scaricato i primi materiali per recintare l'area che ben presto diventerà un parco sul mare, il primo della città a Bari. Ci vorranno circa 400 giorni per la realizzazione. Bari così potrà vantare di un parco unico quello sul mare. I lavori sono già iniziati e il parco sarà il primo sul mare proprio della città con un sottopasso che collegherà quest'area verde in via Mazzini con la spiaggia di Calafetta che a seguire sarà anche soggetto di lavori di riqualificazione. Il parco è in costruzione a Torre a Mare, un quartiere totalmente privo di spazi verdi nel cuore dell'abitato e vicino alla scuola elementare media. Questa diventerà quindi un'area verde che vedrà la piantumazione di nuove alberature, l'installazione di arredi urbani per la socializzazione e cosa più importante sarà direttamente collegata con il mare e raggiungibili quindi da più parti della zona. Il parco di via Mazzini sarà davvero un parco per tutti, dicono dall'amministrazione, capace di attrarre bambini per la dotazione ludica, anziani per la riservatezza dei luoghi e la lontananza dal traffico, ma anche giovani o frequentatori di passaggio che troveranno comodo e piacevole attraversare semplicemente il parco durante gli spostamenti a piedi nel quartiere, entrando e uscendo dai numerosi accessi previsti dal progetto.